Punteggio di 2 a 0. Rivera sempre fuori dal campo per infortunio anche nella parita successiva. Per una parita della Nazionale c'è stata una sosta di una domenica. Dal 16 novembre Milan-Napoli si torna in campo il 30 novembre, sempre 1969. Questa è Milan Superclassic, puntata dedicata alla stagione 69-70 della squadra rossonera. La Sampdoria attacca con un Milan schierato in questa maniera da Rocco, Cudicini, Anquiletti, Schnellinger, Casone, Maldera, Trapattoni, Rognoni, lo detti con Ben Sormani e Gollin. La Sampdoria dal canto su risponde con Battara, Sabadini, Colletta, Sabatini, Spanio, Garbarini, Morelli, Negrisolo, Cristin, Benetti e Morello. È la squadra sampdoriana che cerca la via della rete. Ecco Giorgio Rognoni, il suo traversone, la palla deviata dalla difesa blu cerchiata, poi c'è il tiro e la palla finisce fuori di poco alla sinistra di Battara. Eccolo, Romeo Benetti che sarebbe diventato rossonero nelle stagioni successive, naturalmente una presenza molto importante, proprio nel corso dell'estate del 1970 Benetti sarebbe passato al Milan, questo era l'ultimo campionato in maglia non rossonera di Romeo Benetti che poi avrebbe trascorso stagioni molto intense, molto importanti, ricche di eventi, ricche di vittorie in maglia rossonera. Ecco Angelo Beneditto Sormani in maglia 10, una maglia 10 che cambia spesso proprietario in questo periodo in assenza di Rivera, contro il Napoli c'era Fontana, adesso Sormani e poi c'è il gol di Comben. La rete del numero 9 all'ottavo della ripresa, decima giornata di campionato, il Milan vorrebbe bissare il successo con il Napoli, intanto va in vantaggio grazie a questa rete di Comben e poi c'è un'altra straordinaria occasione per Sormani, ma la formazione rossonera non riesce a raddoppiare. Dunque risultato che rimane sull'1-0 per il Milan, Milan che continua ad attaccare, dà la sensazione alla squadra di avere sotto controllo la partita. Vediamo ancora Giorgio Gionioni che scavalla, il cross è qui, non riesce a mettere dentro il giocatore rossonero in maglia 11, gol in. Ancora il Milan in attacco, c'è una respinta e poi il salvataggio di Sabadini sulla linea. Tato Sabadini anche lui come Robbenetti sarebbe poi passato al Milan, nulla a che vedere invece con Sabatini che aveva la maglia numero 4 sempre in questa Sampdoria. Sampdoria che poi riesce a pareggiare con Cristin. C'è stato un tiro dalla distanza, avete visto da parte di Negrisolo, era riuscito Cudicini a parare però sulla deviazione. C'è stato l'anticipo di Cristin su Giorgio.